Chi partecipa ad un corso di licenza ferroviaria si trova fin dal primo giorno a dover fare i conti con le fonti dell'ordinamento giuridico italiano e quelle derivanti dal fatto che l'Italia è un membro dell'era e della comunità europea ovviamente. Decisioni, direttive, decreti, legislativi, ho visto ragazzi che sconfortati volevano mollare il corso ed andare a casa e in effetti la maggior parte di noi che non ha a che fare con queste fonti e diciamocelo, che non ha studiato giurisprudenza potrebbe non conoscerne il significato, la gerarchia o che cosa rappresenta ognuna di esse. Quindi facciamo un po' di chiarezza, partiamo dal termine fonte. Se vi dico fonte, cosa vi viene in mente? Esatto, il concetto di fonte è espresso in senso metaforico, come l'origine da cui sgorga nasce qualcosa e come una fonte produce in continuazione acqua nuova. Così come lo Stato, con le norme giuridiche, che noi italiani dovremmo, almeno in teoria, rispettare quotidianamente. Ma quali sono queste fonti del diritto? La legge è la tipica e la più famosa fonte del diritto. Tutti noi conosciamo le leggi e da esse derivano la maggior parte dei nostri diritti e dei nostri doveri. Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge adottato dal governo, è quindi pari alla legge. Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dalla legge perché l'intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo. Nel senso che il decreto legislativo viene adottato dal governo sulla base di una legge delega deliberata dal Parlamento che fissa obiettivi, tempi e principi cui deve attenersi il decreto legislativo. In breve, il decreto legislativo è un atto avente forza di legge che viene adottato dal governo, previa legge delega da parte del Parlamento. Insieme a queste esistono altre fonti del diritto, alcune delle quali prodotti in Italia come Costituzione, decreti legge, leggi regionali e le fonti che provengono dall'estero, nel nostro caso quelle dell'Unione Europea, molto importanti per noi ferrovieri. Vediamo nel dettaglio quelle ricorrenti nei corsi di licenza. Decisioni. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Può essere obbligatoria per tutti gli stati oppure specifica per uno o da alcuni di essi. La decisione per essere esecutiva deve essere notificata ai paesi destinatari e solo e soltanto quando avviene la notifica, essa produce i suoi effetti. La decisione è quindi un atto vincolante e vincola, obbliga i destinatari in tutti i suoi elementi. Direttive. Una direttiva è un atto che stabilisce un obiettivo, un risultato, che tutti gli stati membri devono realizzare. Vincola quindi gli stati o lo stato a cui è rivolta al raggiungimento di un determinato risultato, ma spetta ai singoli paesi. Definire attraverso disposizioni nazionali come vengono raggiunti questi obiettivi. Un esempio per quello che riguarda noi è la direttiva 2007-59-CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 247-2010. Raccomandazioni. Le raccomandazioni non sono vincolanti, sono rivolte agli stati membri, ma contengono soltanto un invito ad adottare un certo comportamento. Regolamenti. Invece il regolamento, come ogni regolamento, deve essere rispettato passivamente, è obbligatorio ed è direttamente applicabile da ciascun stato membro. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, perché a breve uscirà un nuovo video sulle ST, le norme e sugli standard tecnici. Quindi, see you later, man!